Una figura che tanto manca al mondo delle corse e dei rally storici e sicuramente farà sentire la sua mancanza anche al prossimo rally lana storico, quella di Ettore Amione, ma non il ricordo visto che la famiglia ha ottenuto la collaborazione di Veglio 4x4, BMT E20 e AC Biella per mettere in paglio due premi speciali in sua memoria e l'hanno fatto prendendo spunto da lui, dalla sua zona di provenienza, dalla sua auto che ha usato fino all'ultimo rally disputato nello scorso autunno. È stato quindi concordato che i premi saranno assegnati all'equipaggio canavesano meglio classificato nel rally storico, valevole per il campionato italiano, il primo, mentre il secondo sarà appannaggio del primo equipaggio classificato nella 2600 del terzo raggruppamento, la classe in cui Ettore correva con la sua amata Volkswagen Golf GTI, gruppo 2. Assieme ai tanti che il rally lana storico offre, quest'anno ci saranno due motivi in più per quegli equipaggi che avranno i requisiti per giocarsi, riconoscimenti che, senz'altro, oltre al ricordo del simpatico pilota, non mancheranno di far vivere delle emozioni sulla pedana d'arrivo al centro commerciale Giorsi. Nel frattempo stanno pervenendo in buon numero le adesioni. L'ultimo giorno utile per perfezionarle sarà il 10 giugno prossimo.